Il Vice Presidente alla Camera dei Deputati Luigi Di Maio, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio e l'economista Alberto Bagnai sono solo alcuni degli illustri protagonisti del prossimo Passaggi Festival. La terza edizione dell'evento culturale che si svolgerà dal 17 al 21 luglio prevede anche quest'anno un ricco programma di iniziative e novità a partire da un accordo rinnovato con Rai News 24. Un accordo che ci dà grandissima visibilità, tante ore di diretti e di servizio sulla più seguita all news italiana. Avremo anche dei libri che saranno presentati in prima nazionale a Fano, ad esempio il romanzo Saggio Inchiesta di Maurizio Torrealta. All'iniziativa che avrà come location il Chiostro delle Benedettine, la Chiesa San Domenico e la Mimo, anche quest'anno non mancheranno importanti riconoscimenti. Riassegneremo tre premi, il premio ad persona, ma che è il premio del Festival, il premio Passaggi d'arte illustrati a un grande grafico, a un artista e poi il premio giornalistico Andrea Barbato, Passaggi d'inchiesta. Il Comitato Scientifico ha già stabilito di darlo a uno dei più grandi giornalisti italiani, devo dire anzi una delle grandi firme europee, Bernardo Valli di Repubblica. Il presidente del Festival, Cesare Carnaroli, ha invece posto l'accento sul valore dell'investimento nella cultura da parte di privati e imprenditori. Un modo per poter poi direttamente o indirettamente avere un ritorno sia economico che d'immagine per la propria azienda. Dal primo al secondo anno Passaggi Festival ha avuto la capacità di raddoppiare le proprie risorse, grazie innanzitutto alle istituzioni, regione, comune di Fano, che hanno creduto molto a questo avvenimento. Però dobbiamo ringraziare anche gli sponsor privati perché in effetti, in particolare nella città di Fano, nella provincia, ma siamo stati in grado di attirare anche qualche sponsor fuori dalla provincia di Pesaro, hanno capito, compreso perfettamente il valore della manifestazione. Buone notizie anche sul versante dei riconoscimenti. Dopo il patrocino ottenuto già nella prima edizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, è giunto anche quello prestigioso del Centro per il Libro e la Lettura, preseduto da una delle grandi figure dell'editoria italiana, Romano Montroni, uno dei creatori, nonché ex direttore delle librerie Feltrinelli. Dunque un festival che cresce e che si sta radicando nella città. Terza edizione del Festival Passaggi, che sceglie ancora Fano, anche grazie all'aiuto quest'anno dall'amministrazione comunale. Festival molto impegnativo perché porta nella città decine di nomi a livello nazionale e internazionale. Assisteremo a dibattiti che affrontano i temi più scottanti dell'attualità. Abbiamo visto la grandissima partecipazione dei cittadini e dei turisti che ormai hanno percepito la ricorrenza di questo appuntamento. Ci dà grande visibilità nazionale. Rai News ha riconfermato l'impegno che l'anno scorso ci ha portato a essere presenti per circa sette ore gratuitamente sui media.